Terra Amara, spoiler giovedì 20 aprile, Cetin in prigione, Giulta gli giura amore. Molte novità Terra Amara sorprenderanno i telespettatori di Canale 5 e le anticipazioni della puntata di giovedì 20 aprile annunciano che l'amore di Cetin e Gulten sarà in primo piano. La ragazza deciderà di rinunciare alla sua felicità sposando Arustem, ma durante la cerimonia di fidanzamento. Arriverà Cetin che sparerà al suo rivale e finirà in carcere. Ci sarà spazio anche per Atip che vincerà le elezioni contro Demire Unkar. Sermin, invece, continuerà a remare contro suo cugino e durante l'anniversario dell'azienda Yamagli farà una scenata, ma la moglie di Atip la aggredirà. Le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 20 aprile raccontano che Gulten si preparerà al fidanzamento con Rustem. Rassegnata al suo doloroso passato, la ragazza non avrà più nessuna speranza e accetterà di sposare un uomo che non ama come suo fratello desidera. Quando Cetin verrà a saperlo, tuttavia, deciderà di lottare per il suo amore e si precipiterà alla festa di fidanzamento di Gulten. Qui, il braccio destro di Yilmaz si ritroverà faccia a faccia con Rustem e non esiterà a sparargli. Cetin finirà in prigione, ma Gulten andrà a fargli visita in prigione e gli prometterà di aspettarlo, pronta ad amarlo senza più paure. Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 20 aprile i riflettori saranno puntati anche su Atip. Il ricco imprenditore si ritroverà a parlare con Beiche e Sermin e con loro condividerà l'odio per la famiglia Yaman. La zia di Muigan non perderà tempo per incoraggiare l'uomo e convincerlo a schierarsi contro la famiglia Yaman. L'amante di Sermin, quindi, si candiderà alle elezioni contro Demire Uncari e vincerà senza difficoltà, riuscendo a diventare il nuovo presidente della Camera di Commercio. Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che giovedì 20 aprile alla tenuta Yaman si festeggerà il 35esimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman. In questa occasione, Sermin mostrerà tutto il suo rancore nei confronti di suo cugino e farà una scenata. La donna accuserà Demire davanti a tutti i presenti, di aver usato qualsiasi mezzo pur di eliminare il ricordo di colui che insieme ad Adnan ha fondato la grande azienda di famiglia, suo padre. Sera Fettin, la presenza di Sermin non sarà affatto gradita dalla moglie di Atip, che vedendola al centro della sala non esiterà ad aggredirla prendendola per i capelli. Tra lo sgomento degli invitati, Uncari e Atip provvederanno a dividere le due donne. Per il è di buon simt, se ridica staggeta, Liric vorbint, sa ajunga la ea doar nasa, cu rachetta, S'o admire nave spațiale de pe Andromeda, Ăsta-i telul, il executi ca pe Maria Antoaneta. D'aia de când mă știu textul-i plin de dude, Dume redante printre talea culte, Încerc flow-uri sute la show-uri buite, Cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima, deodată nu le opresc, Că nu s-a atât de nebun, Mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine, Fii egoist, dar liniștit, Și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, Graffer-ul din Totto, tot MC-ul, care am crescut, pe scurt, De la un pui sălbatic avezi tu, Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, Dar vezi tu, tre' să te-ai Gajargru, petit, dar liniști, Dar vezi tu, tre' de nebun, Mă gândesc,